Persone con storie di vita intense come quelle che spesso ci sfiorano appena nel nostro quotidiano. A Villa Glory però le persone incontrate da circa 200 studenti della capitale hanno preso un nome e un volto. Quello di Marco, di Filomena, di Antonella, di Ciro e di tanti altri che hanno raccontato il loro faticoso cammino segnato dalla IDS. Era arrivata appunto che pesava 40 kg, non mangiavo più. A 160 andiamo a fare un controllo e mio marito è morto e quando lì hanno detto guarda che gli hanno attaccato il suo marito alla chemo. Qui sono stato da 13 anni, però mi sono stato sempre lì vivo e poi sono andato a un punto che il virus è irrilevabile nel sangue, non danneggia. Per i giovani studenti è una lezione di vita che non dimenticheranno. Sono casi che abbiamo per Roma nella nostra città, vicino a casa, tutti i giorni, ma che forse non siamo così attenti e così sensibili a coglierli. Ed è stato molto costruttivo secondo me vedere, avere queste testimonianze per capire meglio la vera sofferenza che c'è in giro. Sono un'esperienza toccante, ma usciti da qua c'è sempre, c'è la voglia di aiutare in qualunque modo. Ed ecco infine i compiti per casa lasciati dagli speciali insegnanti di Villa Glory. Ragazzi fate prevenzione, apprezzate le piccole cose. Gamma andate avanti, che la vita è bella, è bella.